Un giorno molto speciale perché l'Assemblea Generale non poteva che concludersi con un ospite d'eccezione che grazie alla sua presenza corona una giornata così particolare e proprio perché l'Assemblea Generale ci ha raccontato di tutti e alcuni progetti dell'Unione Industriale biellese che penso diventeranno anche un esempio per tante realtà industriali italiane e allora andiamo nel vivo di questo intervento, parleremo di temi che sono a cuore di questo pubblico, parleremo di PNRR, di Europa ma anche di realtà territoriali e allora è con grande onore e con grande piacere che invito su questo palco il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Allora partiamo subito dal PNRR, argomento leggero, alcuni paesi l'hanno già modificato dato che da quando è stato varato la nostra realtà, il mondo è completamente cambiato, ecco il governo sappiamo che sta trattando con l'Unione Europea per cambiare alcuni capitoli, ecco come bisognerebbe intervenire dal suo punto di vista. Innanzitutto ricordiamoci come nasce il PNRR e perché, perché se non ci ricordiamo quello molto almeno facciamo fatica poi a fare un'analisi. Il PNRR nazionale di ripresa e resilienza fa parte del famoso Next Generation EU che era nelle intenzioni della comunità europea uno strumento per uscire dalla crisi pandemica e rilanciare l'economia con degli obiettivi ben precisi. Primo, dovevano essere investimenti pubblici aggiuntivi a quelli che ogni Stato membro aveva già in essere. Secondo, doveva mobilitare tramite investimenti pubblici gli investimenti privati e soprattutto doveva fare le riforme, su cui magari poi ci sarà anche occasione di fare qualche riflessione. Cosa è successo in Italia? Il governo Conte inizia un processo di preparazione del PNRR prese e resilienza, vi ricordate che Confindustria era molto critica perché non vedeva in quel piano quella visione che chiedeva l'Europa. Noi chiedevamo che ci fossero all'interno dei progetti finalizzati alla crescita del PIL, potenziale del Paese. Un Paese che nel suo track record di realizzazione di investimenti pubblici o di investimenti utilizzando i fondi europei non è che possa vantare dei grandi record. Ricordo tutti che in Italia per fare un'opera pubblica superiore ai 100 milioni di euro ci mettiamo mediamente 15,7 anni, tempi incompatibili con quelli del PNRR. Quindi cosa si è fatto? Si è aperto i cassetti dei ministeri e si è ritirato fuori qualsiasi progetto c'era dentro, non avendo una visione invece di insieme. Arriva il governo Draghi, ovviamente 40 giorni di tempo per presentare il piano e quindi non si può intervenire. Vengono modificate le prime 70 pagine in cui si vede questa visione, viene raccontata dal governo Draghi questa visione ma sulle sei grandi missioni non si riesce a intervenire e oggi i nodi arrivano al pettine. Perché purtroppo quei progetti tenuto conto anche del variare delle condizioni due su tutte, aumento delle materie prime e costi energetici non sono realizzabili. E non è un problema solo dell'Italia, è un problema di tanti altri paesi europei. Già cinque paesi europei hanno modificato il piano nazionale di ripresa e resilienza. Io credo che bisogna fare un bagno di realtà, cioè dire quali sono i progetti che possiamo realizzare veramente e che siano funzionali alla crescita del paese, come facciamo nelle nostre imprese. Noi ci indebitiamo ma per crescere. Indebitarsi solo per dire che siamo riusciti a spendere tutti i soldi, quindi tenete pronti qualsiasi scontrino del bar perché prima o poi ce li verranno a chiedere, credo che non sia la strada giusta. Teniamo conto, visto che parliamo di giovani, che quel progetto si chiama Next Generation EU. Noi ci stiamo indebitando per le future generazioni. Se proprio vogliamo guardarla tutta, l'ultima rata di quel debito che noi stiamo contraendo la pagherà un ragazzo che diventerà maggiorelle e che oggi non è ancora nato. Ecco, noi abbiamo una grande responsabilità nell'utilizzo dei soldi del Next Generation EU. Sappiamo anche che l'arrivo della terza tranche dei fondi del PNRR continua a tardare. Le tensioni con la Corte dei Conti di certo non aiuta. Ecco, secondo lei è più un problema di controlli o è l'Italia che ha difficoltà a mettere in piede e realizzare queste tipologie di progetti. Qui bisogna essere molto onesti intellettualmente, cioè nel senso sappiamo che purtroppo c'è uno scontro con l'Europa, che è indipendente dal fatto se noi siamo in grado di realizzare o no quei progetti. Non entro nelle polemiche della Corte dei Conti perché non stanno imprenditori. Io ribadisco, facciamo quello che siamo in grado di realizzare e che serva alla crescita del Paese. Con tutto il rispetto, due rotondi più o cinque chilometri di piste ciclabili non fanno crescere il Paese. Invece dal punto di vista dell'inflazione sappiamo che sta scendendo, ma molto lentamente, le imprese sono anche sul banco degli imputati per i presunti extra profitti. Ecco, eppure dati alla mano, il problema non sembra essere nella manifattura. Qual è il suo giudizio su questo? Allora, che quando si parla bisogna sapere di che cosa si parla, nel senso che per i pochi studi che io ho fatto non ho mai sentito parlare di extra profitti, non ho mai letto sui libri di testo, non ho mai letto di extra perdite o di extra pareggi. Detto ciò, capendo che cosa si intende, guardiamo i numeri. L'idea degli extra profitti nasce per una dichiarazione fatta dagli economisti in Europa. Di che cosa si parla quando si parla di maggior profitto, cioè cosa viene preso a riferimento? Viene preso a riferimento il MOL, che già inquadriamo di che cosa stiamo parlando. Cos'è successo in Europa? Dati 2022 rispetto al 2019. L'economia totale delle imprese, ovviamente come rispetto al MOL, è cresciuta del 14%, i salari dell'8. Se guardiamo la manifattura europea è cresciuta del 20%, i salari sono cresciuti solo del 6%. Media del pollo. Se poi si guarda però l'economia italiana, cos'è successo? I salari sono cresciuti del 6%, il MOL del 6%. Se guardiamo addirittura la manifattura, 2022 rispetto al 2019, siamo diminuiti del 5% e i salari sono aumentati del 6%. Quindi pur in presenza di una diminuzione dei nostri margini, noi abbiamo riconosciuto lo stesso aumento salariale che è stato fatto in Europa. Ci sono settori che sono cresciuti, sì. Commercio 18%, agricoltura 19%, costruzioni 43%. Ci sono dei settori, non è la manifattura. Questo paese deve iniziare quando parla, a parlare nel merito, sapendo di che cosa parla. Non generalizzare, come spesso accade. Invece nel frattempo il governatore Visco nelle sue ultime considerazioni finali ha richiamato l'attenzione sulla necessità di introdurre il salario minimo. Cosa ne pensa? Io ero presente, non è che ha detto che c'è la necessità di introdurre il salario minimo. Detto questo, con FINDUS è sempre stata molto chiara. Se stiamo parlando di salario minimo, cioè quello inteso in 9 euro lordi come sono la maggioranza delle proposte depositate in Parlamento, con FINDUS non è un problema. I contratti collettivi nazionali dell'industria sono tutti superiori a 9 euro lordi l'ora. Il contratto dei meccanici voi lo conoscete benissimo, il terzo livello che è quello che viene preso come riferimento, tra l'altro al primo e al secondo non c'è inquadrato nessuno, stiamo parlando di quasi 11 euro lordi l'ora. Ci sono settori dove si paga di meno? Sì. C'è un problema? Sì. Ma di nuovo, quali sono questi settori? Li conosciamo tutti. Commerci, cooperative, finte cooperative. E allora sappiamo dove sono i settori dove non si paga. In più c'è da dire che noi non abbiamo l'obbligo come paese di adottare la direttiva UE. La direttiva UE viene definita per due motivazioni. Per i paesi a bassa contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non è l'Italia. L'80% dei dipendenti in Italia è coperta da contratti collettivi nazionali del lavoro. Anzi, se qualcuno volesse andarsi a vedere la conferenza stampa di presentazione della direttiva, l'Italia viene citata come best practice, come esempio da seguire. Secondo, perché anche sul salario minimo c'è dumping in Europa, quindi l'idea della direttiva sarebbe quella di armonizzare il salario minimo. Quindi non è un problema di Confindustria, tant'è che quando Confindustria ha detto guardate che per noi non è un problema, è scomparso dal dibattito. Magicamente. E beh, diciamocelo chiaramente, questi settori che ho detto prima sono settori che sono un dividendo elettorale. Si vuole fare il salario minimo? Ma prontissimi? bravo, bravo. Potrei tornare per un attimo al PNRR. Stiamo perdendo un'occasione? Per me sì, ma non inteso nell'utilizzo delle risorse finanziarie, lo accennavo prima. Uno degli obiettivi che si poneva Next Generation EU era di facilitare, stimolare i paesi, gli stati membri a fare le riforme. Riforme che sono fondamentali. Uno, per fare un paese moderno, efficiente, sostenibile, inclusivo, ma soprattutto per rispondere alle disuguaglianze. Cioè il Next Generation EU, oltre a stimolare l'economia, ha come obiettivo quello di andare a colmare ai divari. Questo paese purtroppo ha quattro divari principali a cui non dà risposta da 161 anni, cioè dalla Costituzione dell'Italia Unita. Genere, generazionale, di territorio e di competenze. Quindi se lo devo guardare come Confindustria, importante avere le risorse, sì, ma più importante è fare le riforme. Ecco, io credo che su questo sia un impegno che tutto il paese dovrebbe tendere a spingere, stimolare, sostenerci. Fare le riforme. Fare le riforme è una richiesta che viene portata avanti da anni, ma lo sappiamo che spesso e volentieri la politica non riesce sempre a mettere un punto su questo, no? Fare le riforme non è semplice, è complesso, però c'è, diciamo, da quando sono nel sistema Confindustria, sono un po' di anni, quello che sentivo raccontare è che le riforme non si facevano perché hanno un costo, non sono a zero e non c'erano le risorse. Ecco, questa scusa è venuta meno. Con il piano nazionale di ripresa e resilienza le risorse ci sono, le riforme vanno fatte, vanno fatte nell'interesse del paese, perché se no noi continueremo a metterci 15,7 anni per fare infrastrutture superiore ai 100 milioni di euro, continueremo a non avere quelle connessioni di cui parlava il Presidente Vietti, che se Giovanni tu guardi il tuo territorio, io quando vado in giro per l'Italia, vado in Sardegna e vedo che hanno solo 41 chilometri di ferrovia a doppio binario, vi rendete conto che gap infrastrutturale che hanno? A Nuoro, capoluogo di provincia, hanno solo una ferrovia a scartamento ridotto che li collega Macomer. Come si fa a fare impresa già penalizzati da non avere la continuità territoriale? E potrei citare migliaia di questi esempi. Ecco, noi abbiamo l'occasione per rispondere a tutte queste disuguaglianze e differenze del nostro paese. È un'occasione che non possiamo perdere. Non abbiamo neanche più scuse. Non abbiamo neanche più scuse. No, ma guardi che è complesso fare le riforme, non è che è semplice. Hanno un costo politico, però qui noi siamo in un momento in cui dobbiamo decidere se vogliamo essere politici o statisti. semplice. Hanno un costo politico, però adesso abbiamo anche i mezzi per farlo, quindi confidiamo. Vorrei passare invece a tematiche europee. Con i giorni scorsi si sono riunite le confindustrie europee a Madrid. Hanno siglato un documento finale dove si chiede alle istituzioni europee di avere regole chiare, stabilità fiscale, un mercato unico più forte. Lei tra l'altro più volte ha detto e ha giudicato di regista l'atteggiamento dell'Europa, specie sul fronte delle transizioni. Come dovrebbe indirizzarsi l'azione europea? Allora, su vari temi cercherò di essere sintetico ed esaustivo nelle risposte. Parto dalle transizioni. Le transizioni sono ineludibili, quindi non sono in discussione. Le dobbiamo fare. Transizione ambientale, digitale, tutto. Però anche qua dobbiamo partire dalla premessa, cioè noi dobbiamo raccontare qual è la realtà. Se noi vogliamo fare e raggiungere quegli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati in quel lasso di tempo, c'è sì la sostenibilità ambientale, c'è la sostenibilità sociale, che è un costo, che si tiene solo se c'è la sostenibilità economica. E faccio alcuni esempi. La comunità europea, quindi non dato di Confindustria, dice che per la transizione green, così come è stata oggi architettata in Europa, servono investimenti per 3.500 miliardi. Per l'Italia 650 miliardi. Il PNRR, nella sua magnificenza e monificenza, ne mette tra i 60 e i 70 secondi, secondo il scalco. Vuol dire che, mal contati, 580 miliardi di investimenti sulle transizioni green le devono mettere famiglie e imprese. È pensabile che noi riusciamo a sostenere? No, non è reale. E quindi vuol dire che interi pezzi dell'industria verranno spenti? Sì, ci saranno la ricerca, l'innovazione, nuovi business che partiranno, ma non è spengo e accendo. Nel frattempo che si chiudono alcune filiere e se ne aprono delle altre, a quegli imprenditori e soprattutto a quelle famiglie, noi cosa gli diciamo? Come li accompagneremo nella transizione? Molti non potranno rientrare. Oggi noi abbiamo difficoltà, lo diceva il Presidente Vietti, a trovare le nuove figure professionali necessarie per i temi green. E quindi molti. Il mio papà quando entrava nel mondo del lavoro è entrato e così è uscito. Noi ci dobbiamo riformare, anche noi imprenditori, molto velocemente. E quindi per riformare, riformare e coloro che non potranno essere riformati. Che risposte diamo? Sull'automotive, il motore endotermico, fatto 100 i bulloni di un motore endotermico, in un motore elettrico ce ne vanno 10. Chi è il primo produttore mondiale di bulloni per l'automotive? L'Italia. L'80% della produzione di chi fa bulloni in Italia va nell'automotive. Cosa le raccontiamo? Quindi è un tema, le transizioni, molto complesso, molto serio e mi sembra che l'Europa, il commissario Timmermans, perché ha un nome e un cognome, stia facendo una crociata ideologica ai danni dell'industria europea. E guardate che noi non facciamo una battaglia corporativa. La battaglia di difesa dell'industria europea è interesse strategico dell'Europa, perché purtroppo noi siamo un paese, un continente che ha poca memoria. Quello che è successo nella crisi pandemica ci dovrebbe far capire l'importanza dell'industria. Noi non producevamo più dispositivi di protezione individuale. In pochissimo tempo abbiamo riconfigurato le nostre imprese e siamo tornati a produrli. Se non c'erano la logistica, l'alimentare, il farmaceutico, morivamo. Quindi è interesse salvaguardare la nostra industria ed è interesse salvaguardarla anche in tema di sostenibilità. Perché l'industria non è il problema, è la soluzione. Cioè se tu vuoi agganciare e raggiungere quegli obiettivi, li puoi fare solo stimolando la ricerca delle imprese, lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi materiali. Solo così noi riusciremo a fare la sostenibilità. E poi bisogna essere chiari cosa intendiamo per sostenibilità. Credo che noi abbiamo uno o due cellulari in tasca. La batteria di questi cellulari, polo positivo, ossido di litio, da dove arriva? 400.000 bambini tutti i giorni a mani nudi scavano in Congo. È sostenibile? Per i miei parametri? No. Però ci viene detto che l'elettrico è sostenibilità. E allora qualche riflessione dobbiamo farla. Ma molto seria. Perché o noi abbiamo una governance mondiale della sostenibilità, o se no non funziona. L'Europa emette solo l'8% di emissioni climalteranti. Cina e India il 33%. Cina e India l'anno scorso, a Glasgow, al COP26, hanno detto una cosa molto chiara. Noi fino al 2035 implementeremo la nostra produzione tramite centrali di carbone. E noi anche se spegniamo l'Europa, adesso, in questo momento, tutta l'Europa, non risolviamo i problemi del mondo. Allora certo, noi vogliamo lavorare. Noi vogliamo lavorare, vogliamo investire in innovazione e ricerca ai fini della sostenibilità, ma abbiamo necessità che si faccia un discorso serio, nel merito, e che ci sia accompagnati dalle risorse necessarie. E qui serve un fondo sovrano europeo. Ma l'Europa, dopo la crisi pandemica, ha smesso di fare l'Europa. Perché la Germania ha iniziato, di nuovo, a pensare a se stessa. Perché se lo strumento di politica industriale europeo è quello della deroga agli aiuti di Stato, noi non diminuiamo le disuguaglianze, le differenze di competitività all'interno del mercato unico. Le aumentiamo. Perché ovviamente favoriamo i paesi che hanno uno spazio fiscale maggiori, Germania, che ci ha messo già 300 miliardi. E' ovvio che un paese come il nostro viene penalizzato. Nel 2022, sulle deroga agli aiuti di Stato, il 47,3% è andato a favore dei tedeschi, il 39,7% a favore della Francia, solo il 4,7% a favore dell'Italia. Però è una visione miope. Perché la Germania, sì, si avvantaggerà rispetto a noi, ma poi noi crolleremo di fronte alla sfida di competitività, ed è questo che richiavamo in maniera molto forte nella dichiarazione a Madrid, che abbiamo firmato sabato, di fronte alla sfida di competitività che si sta annunciando Cina e Stati Uniti. Quindi regole uniche e regole per tutti. Questa dovrebbe essere in qualche modo la via da intraprendere? No, noi abbiamo bisogno di un'Europa solidale, come lo è stata durante la pandemia, che era una crisi simmetrica, colpiva tutti nella stessa maniera, dobbiamo avere quello spirito. Allora, vogliamo fare una sfida di competitività, vogliamo essere avanti, primi nella regolamentazione della sostenibilità ambientale, dobbiamo avere un fondo unico sovrano europeo. Bisogna mettere i soldi insieme e accompagnare il sistema industriale europeo verso le transizioni. Se no, cosa succede? Che il primo esportatore mondiale di auto elettriche è già un cinese. Il primo esportatore di moto è un cinese. E noi cosa facciamo? Ci indebitiamo, PNRR, compriamo tecnologie e importiamo dalla Cina, esportiamo valore aggiunto, ci indebitiamo e poi abbiamo il problema dello smaltimento delle batterie, quindi ci siamo indebitati portandoci in casa il problema per cui noi abbiamo fatto tutta questa operazione. Non mi sembra che sia proprio un disegno perfetto. Esatto, un paradosso. Tornando all'economia di questo periodo che sta attraversando come già in passato delle fasi particolari, ecco la Germania è in recessione, la Francia non se la passa molto bene, è chiaro che in Italia le industrie si fanno delle domande, ecco ci sono, tutto questo porterà delle conseguenze negative anche per noi. Prima cosa che mi verrebbe da riflettere è, allora abbiamo raccontato di un'industria italiana in maniera sbagliata, perché dalla crisi pandemica in poi abbiamo fatto più 7%, più 4% e molto probabilmente quest'anno più 1 e 2 e noi l'anno scorso l'avevamo detto e quest'anno all'inizio dell'anno quando tutti dicevamo che andavamo in recessione dicevamo che crescevamo e forse qualcuno ci ha raccontato in maniera sbagliata, il fatto che eravamo brutti, sporchi, cattivi, inquinavamo non era così. E cos'è successo? Che nessuno ha raccontato che dopo le sberle che abbiamo preso 2008, 2010, 2011, le tre crisi, gli industriali italiani, gli imprenditori italiani hanno fatto i compiti a casa, si sono patrimonializzati, vi ricordate? Tutte le nostre aziende non sono capitalizzate, le nostre aziende sono patrimonializzate come quelle tedesche, come quelle francesi, abbiamo investito in innovazione e ricerca e siamo andati sui mercati internazionali, l'anno scorso abbiamo fatto il record di export, il 90% lo fa la manifattura italiana, più di 600 miliardi e abbiamo avuto la fortuna di incrociare tre provvedimenti, industria 4.0, patent box e il credito d'imposta, ricerca e sviluppo. dimostrazione che se noi facciamo i compiti a casa e il governo stimola gli investimenti necessari, in questo caso sono investimenti necessari sulla transizione 5.0, noi siamo in grado come paese di fare molto meglio degli altri. Siamo contenti che Germania e Francia vanno male, no, perché non sto a raccontare a voi quanto le nostre imprese sono inserite nelle catene del valore aggiunto della Germania e della Francia, però questo dovrebbe insegnare a questo paese e anche a noi a raccontarci meglio di quello che siamo e a raccontare la realtà. C'è un'indagine molto bella uscita recentemente dove si dice che l'immagine degli italiani è migliore all'estero di quella che hanno gli italiani in Italia. Noi non ci sappiamo raccontare, sappiamo fare molto bene il nostro lavoro, lo stiamo dimostrando con i numeri, però quello che io sto dicendo da un po' di tempo è che questi numeri non sono dati per diritto divino. Quindi abbiamo necessità di politiche nazionali e europee di stimolo agli investimenti. Noi dobbiamo avere un mantra, crescere, crescere, crescere e per farlo abbiamo necessità di fare investimenti, ma investimenti tali che da soli non ce la possiamo fare. E poi abbiamo un altro appuntamento importante a dicembre. La Commissione europea proporrà il nuovo patto di stabilità. Come dovrebbe essere congegnato per non penalizzare l'Italia? Innanzitutto cambiando il paradigma, perché il patto è stabilità e crescita, come se la stabilità deve essere la crescita. Io credo che si debba cambiare. Crescita e stabilità, perché è la crescita che ci darà la stabilità in Europa. E quindi se noi cambiamo il paradigma è chiaro cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare quegli interventi di politica industriale affinché l'industria europea riesca a sostenere quello che ha fatto la Cina con MIC 2015. La Cina ha detto ben chiaro dove voleva andare. Prima potenza tecnologica al mondo vuole essere. Quello che ha fatto IRA, Stati Uniti, che non è un provvedimento come viene raccontato di protezione. è di competitività. Gli americani hanno detto andiamo verso le transizioni per fare quello, mettiamo questi soldi perché ci aspettiamo questi risultati dalla nostra industria e adesso molto probabilmente apriranno anche alle industrie straniere che producono negli Stati Uniti, perché vogliono diventare indipendenti su alcuni argomenti. L'Europa cosa ha fatto? L'Europa ha detto benissimo vogliamo essere i primi al mondo per sostenibilità? Arrangiatevi. E non è così che funziona. Quindi noi dobbiamo chiedere all'Europa di avere un patto di crescita e stabilità che tenga conto di qual è la visione degli obiettivi che ci poniamo chiedendo alla politica del nostro paese di essere lungimirante perché tendenzialmente quando si fanno questi nuovi accordi si dice pochi risultati all'inizio e sposto tutto dopo. Il dopo però può diventare un problema perché se si cresce è facile rispondere agli impegni, se no dopo arrivano problemi e quindi dobbiamo tutti insieme costruire un patto, tutti insieme, io dico politica italiana, parti sociali italiane, ma europee, guardando alla crescita del continente europeo. Vorrei tornare per un attimo all'importanza delle riforme che ha accennato anche prima in particolare, a quella fiscale e a quella sul lavoro. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci realisticamente dall'attuale esecutivo? Io prendo uno spunto diverso di una cosa che era nella relazione del presidente Vietti e che dovrebbe essere guidarci, cioè il tema della curva demografica. Perché noi siamo un paese con una curva demografica asfittica, lista tra destra, se andiamo avanti così per decenni, scenderemo a 45 milioni, quindi un terzo in meno. Se vogliamo affrontare seriamente il tema della demografia, dobbiamo mettere in campo tutta una serie di provvedimenti, perché non basta un provvedimento sapendo che i primi effetti li vediamo fra 20 e 30 anni. Non c'è un paese al mondo che può pensare di crescere con una curva asfittica come la nostra. La stessa Cina è tornata indietro sulla politica dell'unico figlio, perché i dati dimostravano che non cresceva più. Nel lungo periodo non sarebbe più cresciuto. Quindi positivo che ho sentito il governo che lo vuole affrontare questo tema, ma per affrontarlo dobbiamo mettere insieme tutta una serie di riforme che sia organica. Ecco, se noi pensiamo di affrontare qualsiasi tema, ma in particolar modo questo della demografia, con delle riforme che non si parlano tra di loro, ecco qui commettiamo un grave errore. E sul tema della demografia dobbiamo tornare a parlare nel merito seriamente di immigrazione. Purtroppo questo è un paese dove, a secondo di come tu affronti l'argomento, sei senofobo o senofilo. E non funziona così. Dobbiamo sederci nel merito a parlare. Noi abbiamo, la sintetizzo, due temi di immigrazione. Un'immigrazione di qualità, su cui dobbiamo fare competizione con gli altri paesi, perché gli altri la fanno. Si vanno a prendere i migliori. Crisi della Siria e i tedeschi si sono andati a prendere i migliori. Canada ha una patente a punti per l'ingresso per prendere i migliori. Quindi è un tema di competitività anche su quello. E poi c'è un tema di immigrazione economica ineludibile per la nostra posizione geografica, per dove siamo messi, per le crisi dei conflitti. Positivo che la Premier Meloni sia andata in Tunisia, perché quello è un problema. Un problema di immigrazione anche. Quindi parlare di demografia ci deve portare anche a parlare seriamente di immigrazione. Con una curva asfitica così, nei prossimi 20-30 anni, è ineludibile che noi dovremmo fare ricorso a un sistema di immigrazione intelligente per sostenere le necessità delle nostre imprese. Perché noi non troviamo persone. Io mi ricordo quando con il governo Conte e con i sindacati ci fu una discussione sullo sblocco dei licenziamenti, dove pamentavano milioni di licenziamenti, dicevano guardate che noi non troviamo gente da assumere. Il nostro problema è assumere, mica licenziare. E quindi, se vogliamo sostenere la nostra economia, è un tema su cui bisogna aprire una riflessione seria. E che cosa possiamo fare per attrarre di più i giovani nelle nostre industrie? Perché, come diceva lei, i candidati sono davvero pochi. Forse ci raccontiamo troppo poco? Bisogna cambiare tanto. Noi, come sistema Confindustria, abbiamo fatto un grande errore. Abbiamo sempre pensato che la scuola era un problema fuori dalle nostre fabbriche, per decenni. Oggi, quel problema ci è entrato violentemente nelle nostre fabbriche. Abbiamo avuto, negli ultimi 12 anni, tra ministri dell'istruzione e ministri dell'università, 12 ministri, 12 riforme. E noi abbiamo un ciclo di studi che, come minimo, è triennale. Per alcune cose sono di 5 anni. È ovvio che tu non vedi mai gli effetti delle riforme, peraltro riforme che erano pensate per chi ci lavorava e non per chi le frequentava alle scuole. Quindi, anche questo è un tema. Abbiamo raccontato male il tema degli istituti tecnici. Non voglio dire che tutte le imprese italiane più importanti, ma buona parte delle imprese italiane importanti, sono state fatte da periti. Periti tecnici. Che avevano l'idea, l'hanno sviluppata e hanno fatto diventare l'industria italiana quella che è oggi. La seconda manifattura in Europa, la settima mondiale, invidiata da tutti. Un'industria in cui, mentre gli altri arretrano, noi cresciamo, grazie alle nostre intuizioni, capacità di saper far bene, far bello, flessibilità. Anche qui potrei fare un elenco lunghissimo. Quindi, noi dobbiamo necessariamente ripensare come ci raccontiamo, cosa facciamo, ma il tema è veramente un tema di numeri. Cioè, gli istituti tecnici in Germania, in Fraunhofer, 900.000 all'anno. Noi siamo, Gianni, 200.000? 22.000. Cioè, questo ci dice dove siamo. Parliamo tanto di sostenibilità, ma tutte le nuove professionalità, qualcuno ci sta pensando? No, e di nuovo, per avere la possibilità di avere quelle figure professionali di cui abbiamo bisogno, gli ITS, il 95% delle fondazioni sono di natura industriale, ce le siamo fatte noi le scuole. Allora, sempre di più, purtroppo, l'industria italiana va a riempire gli spazi dove lo Stato sta arretrando. Però noi non abbiamo tutte queste capacità di poter colmare questi spazi, che non sono solo di formazione. Ormai noi ci occupiamo di delle opere d'arte, dei teatri, cioè teniamo in piedi il territorio. Allora, siamo legati al territorio, viviamo in questo territorio, le nostre famiglie sono nel territorio, e quindi noi vogliamo stare nel nostro territorio, anche la narrazione che noi vogliamo andare all'estero. No, noi vogliamo continuare a investire in questo paese. Perché questo lo vedo sempre con i miei colleghi, noi giriamo per lavoro, andiamo a posti meravigliosi, aeroporti di marmo, torniamo in Italia, arriviamo, la scala mobile non funziona, la porta non si apre, ma quando usciamo è il paese più bello al mondo. Ecco, noi vorremmo un paese che ami noi quanto noi lo amiamo. Io ho apprezzato molto le parole del Presidente del Consiglio quando ha detto noi non vogliamo disturbare chi fa e la crescita e l'occupazione non si fa per decreto. Io vorrei rispondere con quello che ci ha detto Papa Francesco alla nostra Assemblea l'anno scorso. La miglior forma di ridistribuzione di ricchezza è creare posti di lavoro. Ecco, fateci fare il nostro lavoro. Noi creiamo posti di lavoro. In effetti se ci pensiamo la nostra storia, la storia dell'Italia è fondata sulle famiglie che hanno creato il Made in Italy. Quindi a volte ho quasi l'impressione che ce ne dimentichiamo, no? Di raccontare quello che è stato e quello che potrebbe continuare ad essere anche per il futuro. Allora, noi siamo un paese dove il capitalismo familiare è stato additato come una cosa brutta. Perché questa è la realtà. Siamo un paese dove il sentimento anti-industriale è albergato per decenni. E questa è la realtà dei fatti. Noi abbiamo commesso degli errori nella nostra narrazione. Abbiamo commesso degli errori come tutti. Però oggi abbiamo di fronte una grande occasione come paese. Una grande occasione di ripensarci. di mettere in campo quelle necessità importanti che ci chiede il paese. E anche sui giovani, guardi. Dobbiamo ripensare il nostro rapporto con i giovani che vanno all'estero. Con le nostre fughe dei cervelli famose, no? Anche qua. Noi abbiamo tra gli Stati Uniti e il Canada quasi 4.000 ricercatori nelle università o nei più grandi laboratori privati. Questi quasi 4.000 ricercatori italiani si autotassano tutti gli anni per stare in una comunità che si chiama ISNAF di cui nessuno sa nulla. Gli omologhi tedeschi sono pagati dal Ministero degli Esteri tedeschi e sono messi costantemente in contatto con le imprese tedesche. non c'è barriera linguistica e hanno accesso ai migliori laboratori del mondo. Ecco, noi non riusciamo a fare sistema. Quello che diceva l'Assemblea, fare sistema, fare rete. Noi i nostri giovani ce li ricordiamo quando c'è da votare all'estero. Allora gli mandiamo la cartolina. Ma perché non tenerli in rete? Qualcuno non trova occasione in Italia e è andato all'estero? Ma teniamolo legato. Cioè, tutti noi giriamo. Chi è il miglior ambasciatore se non l'italiano che vive all'estero del nostro paese? Hanno voglia di Italia, di rimanere legati al territorio italiano, di rimanere legati alle loro origini, al loro territorio, alle loro famiglie. Allora facciamo sistema con loro. Sono i nostri migliori ambasciatori. Non sono più in Italia, saranno utili al paese anche stando fuori dall'Italia. Allora, noi dobbiamo ripensarci come comunità. Quel fare sistema che viene richiamato in questa Assemblea. Lo diciamo sempre e anche noi lo richiamiamo spesso e alcune volte siamo i primi a non farlo, quindi non è che mi chiamo fuori dalle critiche. Però dobbiamo ripensarci veramente come comunità. come comunità di imprenditori, come comunità di impresa, noi e i nostri collaboratori, come comunità nei nostri territori, come le imprese stanno nei territori. Dobbiamo ripensarci. Però è una grande occasione e abbiamo tutte le chance per fare bene. Con una cosa. Mio papà aveva un grande sogno. Usciva dalla guerra, voleva dare un paese migliore a me. Noi dobbiamo tornare a far sognare gli italiani. Gli abbiamo tolto tutti i sogni. Dobbiamo tornare a sognare insieme un grande paese come sognavano i nostri genitori per noi. E' quella famosa storia italiana di cui parlavamo prima. Piccole realtà che studiamo, che nascono da poco, da persone che magari aprono un'attività in un piccolo laboratorio e che poi magicamente nell'arco degli anni si trasformano in realtà imprenditoriali importanti, che lasciano il segno. Questa è la magia della filiera italiana. Cioè c'è ancora una categorazione grandi, medie, piccole. Ormai si ragiona di filiera. L'importante è che cresca la grande, che trascini la media, che trascini la piccola. Noi abbiamo bisogno di questo. Se stiamo ancora nei modelli, grande, piccola, media, il grande contro il piccolo, facciamo il più grande errore della vita. Ragioniamo per filiere. Le filiere, peraltro, sono completamente diverse da quelle che si pensava. Anche qui avremmo dovuto impararlo durante la pandemia, i codici a teco, vi ricordate? Un paese che è ancora ancorato i codici a teco. Quindi il mondo è andato avanti. Noi dobbiamo avere la capacità di pensare al futuro, guardare al futuro, crescere nel futuro. Ed è una bella sfida. Ma ribadisco, oggi abbiamo tutte le potenzialità per fare bene. Abbiamo le risorse finanziarie, molto probabilmente avremo stabilità di governo e questo ci dà garanzia di provvedimenti che possono guardare al medio-lungo periodo. Molto probabilmente avremo un cambiamento politico in Europa che ci consenterà di affrontare diversamente alcuni temi. È un'occasione da non sprecare. È un'occasione da non sprecare. L'impresa italiana c'è, c'è sempre stata, ha voglia di contribuire alla crescita del paese, una crescita, come ha detto, sostenibile, inclusiva. C'è tutto per fare. Quindi abbiamo tutte le possibilità per aiutare queste filiere a continuare a conservarsi e poi farle crescere ancora di più. No, no, è diverso. È le filiere che spingono. È il paese che deve capire che noi stiamo andando veloci. Cioè, noi siamo già nel futuro. È il paese che deve stare dietro a noi. Prima, quando raccontava la storia di suo padre, insomma, quando ripensa a tutta l'attività che ha portato avanti il suo padre, vede questa possibilità anche nell'Italia di oggi? Anche perché è emozionante ripensare, no, alcune storie, alle vostre storie industriali. Sono storie fantastiche, storie di successo, storie di fallimenti. purtroppo l'Italia affronta i fallimenti sempre come una grande tragedia quando nella realtà fa parte di un percorso di crescita. Sono cambiate, ovviamente, tante condizioni. È cambiato il modo di lavorare, il modo di pensare. Però, ribadisco, bisogna mantenere vivi i sogni, dare la possibilità di realizzarli raccontando che certi sogni si realizzano con il lavoro. perché noi purtroppo abbiamo passato decenni dove si guadagnava senza lavorare. Io li invidio. A me hanno insegnato che solo il lavoro porta a certi risultati, tant'è che noi siamo un paese che ha le tasse più alte sul lavoro che non sulle rendite finanziarie e questo la dice lunga. Ovviamente guardando a quello che è il futuro. Io non posso pretendere che i miei figli facciano quello che ho fatto io. fallirebbero. Loro devono avere la possibilità di esprimersi tenendo conto però che c'è etica, serietà, bisogna rispettare le regole. È un paese che deve rimettere certe regole. Non è pensabile che sia sempre tutto concesso. Non è concesso nulla per diritto divino. Se ti impegni puoi ottenere. Io devo metterti in condizione di avere tutte le chance del mondo. Tenendo conto che è cambiata la competitività. Oggi arrivano i migrati che sanno tre lingue. Noi facciamo fatica ad andare a parlare l'inglese. Mio papà le lingue neanche le parlava. Andava in giro con una valigetta e a gesti si faceva capire e vendeva. Oggi sarebbe impensabile una cosa del genere. Sono cambiate le condizioni. però noi abbiamo una cosa che secondo me è unica al mondo che è l'ingegno italiano. Domani noi faremo come Confindustria una conferenza stampa dove presenteremo l'apertura della prossima sede di Washington di Confindustria che verrà il 20 di giugno. Con l'occasione porteremo a Washington per la prima volta 12 tavole del Codice Atlantico di Leonardo. Perché? Perché vogliamo raccontare l'ingegno italiano l'industria italiana tramite l'ingegno di Leonardo. Le prime macchine gli scavatori le pompe idrauliche e li hanno inventati gli italiani l'ingegno italiano e ancora oggi quell'ingegno è fortissimo. Perché tutti vogliono gli imprenditori italiani nel mondo? E ci sarà un motivo ovunque andiamo ci fanno ponti d'oro per andare a investire negli altri paesi perché siamo i migliori imprenditori al mondo possono raccontare quello che vogliono l'ingegno la flessibilità la capacità che abbiamo noi non ce li ha nessuno quindi abbiamo un petrolio una materia prima unica al mondo spero che questo paese se ne accorga prima o poi che ha veramente il petrolio sotto casa. è una domanda che va un po' al di fuori parlando di difficoltà ecco in futuro abbiamo visto anzi ad oggi abbiamo visto che l'intelligenza artificiale sta iniziando a prendere piede è un argomento che state affrontando in questa fase e che cosa ne pensate che cosa si sta parlando a Confindustria su questo? Le difficoltà gli imprenditori italiani sono abituati penso che non siano mai mancate e mai mancheranno ma fa parte dell'essere imprenditori sicuramente le nuove tecnologie fanno parte di una grande discussione per esempio solo a uno dei nostri grandi asset che è il Sole 24 Ore già si sta confrontando con queste nuove tecnologie però noi non possiamo pensare di affrontare queste sfide quando non abbiamo campo col ceduto cellulare se vado fuori 100 metri da qua e allora su questo le infrastrutture digitali sono importanti e il 95% dei dati digitali viene trasferito su cavi sottomarini abbiamo visto cosa è successo in Nord Stream 2 sto facendo alcuni esempi spot per dire l'industria della difesa era un'industria che è sempre stata non si poteva parlare di industria della difesa poi ci siamo svegliati di nuovo con la guerra alle porte e improvvisamente ci siamo resi conto quanto l'industria della difesa non vuol dire fare la guerra ma difendere gli interessi strategici nazionali che possono essere dal cavo sottomarino quanto alle zone di interesse economico che espanderemo in mare come stanno facendo altri paesi perché se io espando la mia zona di interesse e poi non la difendo non la controllo è inutile quindi ci sono tante tematiche su cui dobbiamo fare tante riflessioni come paese su molte cose arriviamo dopo gli altri ma io credo di nuovo che grazie all'industria italiana noi saremo in grado di essere super competitivi su tutto quindi nessun problema ad affrontare nuove tecnologie tutti i giorni noi ci confrontiamo con nuove tecnologie ognuno nei suoi settori è una sfida che è normale una sfida che noi affrontiamo e tendenzialmente le vinciamo ultimissima domanda poi la lasciamo tornando per un attimo al tema dell'assemblea generale fare rete tra imprenditori per poter in qualche modo sviluppare il territorio come possiamo aiutarli per incertivare i territori e gli imprenditori a seguire questa via ma credo che la migliore risposta sia avvenuta durante la crisi pandemica che ha dato la risposta che tutti gli imprenditori si danno che è perché essere iscritti a Confindustria perché devo pagare una quota per essere iscritti a Confindustria non so se vi ricordate quel periodo perché ce lo siamo dimenticati infortunatamente l'abbiamo voluto cancellare dalle nostre menti arrivavano DPCM alle 11.59 con l'entrata in vigore il minuto dopo e io devo ringraziare il sistema Confindustria tutte le persone che lavoravano lavorano nel sistema Confindustria nelle territoriali categorie i funzionari perché hanno lavorato incessantemente giorno e notte da casa per dare risposte agli imprenditori perché è stato un momento di grande smarrimento per tutti abbiamo dovuto affrontare qualche cosa a cui nessuno era preparato e quello è l'esempio della risposta di come fare il sistema perché stare insieme perché ci possiamo aiutare l'esperienza mia può essere utile a un mio collega o viceversa abbiamo sempre da imparare uno dall'altro da tutti chiunque ti può insegnare qualcosa e soprattutto ci rende più forti quell'esperienza ci ha reso più forti perché siamo stati insieme in un momento di grande smarrimento si è ritrovato lo spirito lo spirito di stare insieme vi ricordate il meraviglioso esempio civico che hanno dato gli italiani in quel periodo dalle Alpi alle Piramidi un patrimonio che non vorrei che questo paese perdesse cioè c'è stato un momento in cui gli italiani hanno dato una lezione a tutto il mondo tutti ci guardavano come ammirazione dicendo è impossibile che gli italiani fanno questo giusto o sbagliato si è detto dovete stare a casa ci sono dei sacrifici da fare e noi abbiamo dato un esempio di come il paese ha fatto il sistema di come siamo stati insieme ecco quello è fare il sistema poi lo possiamo calare nelle filiere nei territori per gruppo merceologico però ecco io vorrei che il paese tornasse a quello a quel momento non ovviamente per la crisi pandemica ma per quello spirito di comunità che ci ha fatto stare insieme come popolo per non dimenticare i fiori sono per me grazie presidente grazie davvero grazie a proposito di giusti e a tessile grazie 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 presidente è stato per noi un onore poterti ospitare e certamente hai dato degli spunti che ci faranno riflettere molto interessanti per tutti grazie ancora grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti